ciao ragazzi bentornati da framoale sanco ben ritrovati in questo nuovo video di clash royale questo è il secondo episodio ieri ho fatto il primo episodio ma ero al cesso a mezzanotte e mezzo quindi non potevo parlare molto e va bene allora iniziamo ho notato riguardando il video che la mia cam era un po in mezzo alle palle e non si riusciva a vedere ad esempio il tempo che mancava per la partita comunque adesso sto più attento a non coprire nulla ma ne riceviamo 16 carte donate direi che io ve l'avevo promesso che sarei andato a spacchettare questo baule in questo video quindi lo andrò a fare e vi do anche un premio per essere state brave ovvero andremo anche nei filari il premio del della stagione insomma due premi tra l'altro quindi andiamo prima aprire il baule per cento 149 di oro due soldi e 19 barbari scelti che non mi interessa anche perché private non si possono far vedere non si possono inserire e ok stavolta siamo primi con nelle perota clan perché ci avevano battuto però siamo sempre sotto porca troia non posso donare la scarica perché mi serve molto vi ricordo il mio deck è questo qua e ancora c'è delle carte da migliorare in realtà l'unica che mi manca al 12 è lo stregone elettrico ma io sono ancora a livello 11 quindi va bene ah c'è un nuovo torneo questo posso farlo in video posso fare un'arena per ogni video ma come funziona sblocco la prossima arena con tre vittori ok quindi fa tre vittori per la prossima arena ci sta molto carino molto carino ma c'è un limite no non c'è un limite di perdite mi sa va bene però faremo insieme allora facciamo in questo video allora farò le guerre tra clan vi faccio vedere questi sono i miei deck questo è il primo deck il 2.6 classico questo è un deck con pecca ed ariete è diverso da quello che ho io come mazzo normale questo deck con scintilla gigante insomma un po' in realtà questi ultimi due mazzi anche questo con il gigante royal non li so usare benissimo ma anche perché ad esempio la fulmine non sono proprio bravissimo ad usarla però vabbè però ci proveremo allora facciamo che vado a fare un duello contro hog del clan hero prendiamo il primo mazzo del 2.6 me la cavicchio non sono proprio bravo ma diciamo che non abbiamo il cinghiale quindi dobbiamo ok cicliamo attaccando di caldo ok Ok, vediamo cosa fa. Difesa. Oh, ci mangiai. Ok. Oh no! Ok, non gli ho preso l'altro. Non ho fatto fare tutto. Basta! Oh, che schifo! Ho sbagliato. Sì. Oh, che schifo! Oh, che schifo! Grazie a tutti. No, cazzo è un duello. Porca troia. Stavo da mangiare io. 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 Stavo da mangiare io.